Era in novembre 2017 quando Argante Sinatti, una settantenne a retino, morì sul ciglio della strada dopo essere stato travolto da un autobus di linea TM. Adesso l'autista accusato di omicidio stradale potrebbe andare a processo. È cosciente di aver fatto tutto quello che doveva fare e la valutazione sarà poi al giudice se vi sono delle sue responsabilità. Però per chiunque guida un mezzo è un trauma, per chi lo fa di mestiere, per chi ci vive, per chi ha fatto anni di questo servizio è ancora di più un peso da affrontare. Quella drammatica notte il pensionato si trovava sul ciglio della strada, la regionale 69 tra Salleo e il ponte di Pratantico, quando venne colpito alle tempie dallo specchietto dell'autobus morì sul colpo. Dopo l'incidente il PM Giulia Maggiore dispose una serie di accertamenti per chiarire la dinamica dell'impatto. La vittima avrebbe infatti parcheggiato la sua auto al margine della carreggiata, sarebbe poi scesa per raccogliere un capriolo travolto da un'altra macchina. Complice probabilmente il buio, si consumò il drammatico incidente. Sulla base degli accertamenti disposti dal magistrato e l'autista sessantenne, con una lunga esperienza alle spalle, doveva essere nella condizione di evitare quella tragica collisione. Vedremo di farle esaminare dal giusto punto di vista al giudice e poi valuteremo quale strada intraprendere, se un rito alternativo, se affrontare il processo, se chiedono una nuova perizia. Dalla consulenza sono emersi anche degli errori commessi dallo stesso pensionato, che non si sarebbe dovuto fermare sul bordo della strada se non per motivi di necessità. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 11 giugno. La famiglia della vittima ha anche chiesto un risarcimento danni all'assicurazione TM per 600 mila euro.